ma c'è la dame di ossa cazzo un gol ma lei non è che va a parire io stupendo che va a fare stacchino e' il gol e' il mancinello è un gazzaglio ma che faccio per chi va e' il gol 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 e' la trinzione dei piazzati poi c'è la dirai noi non c'è ma ne metto l'ingolino e' il gol e' il gol ma tu chiamur sui romani vado bis avuto la mia 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 la